Tutto chiede salvezza, c'è una parola che compare quasi all'inizio, scritta sul muro, sembra buttata lì, ma invece è molto importante, apnea. Ti chiedo Francesco come sei riuscito a costruire l'apnea che poi assorbiamo, vediamo nella serie, interballata da delle boccate d'aria, e voi ragazzi come siete riusciti a rimanere in apnea durante il set, sul set? Ma quella è stata un'idea della scenografa, Ilaria Sadun, che mi ha detto ma perché non facciamo un po' di scritte? L'ho sposata subito, poi me l'ha fatta selezionare e quella mi sembra proprio accanto al suo letto. La sensazione, soprattutto nelle puntate 1 e 2, è proprio quella di mancanza di aria, cioè le finestre sono chiuse, non circola l'aria, non funziona l'aria condizionata, e quindi proprio l'apnea è la parola giusta. Poi progressivamente la serie si apre, si comincia a sconfinare dalla camerata, addirittura nell'altro reparto, poi si esce anche, quindi si comincia a respirare, però insomma quella parola l'ho sposata immediatamente. Sì, poi penso sia simbolico insomma anche del lavoro che abbiamo cercato di fare, perché soprattutto nella prima fase del racconto, nel momento in cui uno si trova in un ambiente del genere, tagliato fuori da tutti i legami che aveva, con una vita al di fuori che invece continua, mentre tu sei lì dentro ingabbiato, è proprio quello che abbiamo cercato di insomma in qualche modo rappresentare a livello psicologico, almeno nel mio personaggio, e è stato molto complicato perché comunque implicava il fatto che uno doveva rimanere chiuso in quelle sensazioni costantemente nel momento in cui c'erano quel tipo di scene lì, e quindi mettere quasi una sorta di barriera appunto con l'ambiente esterno e richiudersi all'interno di una propria negatività. Per uscirne è stato fondamentale proprio il supporto e la serenità che c'era sul set, che è stata una cosa fondamentale, come proprio controparte del lavoro che abbiamo fatto noi a livello psicologico e a livello interpretativo, penso che la serenità che c'era sul set era fondamentale per riuscire a smorzare quella sensazione proprio opprimente che c'era. Io credo che Nina, il mio personaggio, non stia minimamente in apnea, anzi vomita tutto proprio fuori direttamente e credo che non ci sappia stare più che altro in apnea, o meglio tutto l'ho prima, ma non ci sappia stare poi nel reparto psichiatra ed è per questo che anche delle, insomma vedremo poi nel corso, dopo i primi due episodi ci saranno tante cose che succedono, non è un personaggio molto evasivo, che vuole anche evadere, quindi l'apnea non è il suo forte, ecco. Daniele Mencarelli dedica il libro ai lottatori, è una cosa molto bella, voi a chi dedicate tutto chiede salvezza? Ma è difficile dirlo, forse a tutti i ventenni che si sentono male e che non hanno magari il coraggio di dirlo e che non hanno magari intorno delle persone che li capiscono. Sì, anch'io mi accodo a chiunque abbia voglia di ascoltarci e di ascoltare anche una storia, anche se non è la sua. Condivido. C'è un faro che la regia ricerca, spesso lo vediamo, una sorta di protagonista per certi versi, voi ragazzi stessa cosa vi facciate, guardate questo faro, quindi una serie, un film, un libro possono servire appunto da faro a chi ha smarrito la strada? Beh, insomma, speriamo, nel senso che sarebbe presuntuoso da parte nostra pensare a una cosa del genere. È una speranza che qualcuno si rispecchi, che trovi conforto in quella luce, insomma. Speriamo, insomma. Sì, secondo me la vittoria è rappresentare un conforto per le... Penso che nulla possa essere poi... Nulla di esterno possa essere in maniera incisiva curativa, cioè determinante al punto di curare. Penso che possa essere di conforto e la vittoria sarebbe appunto una compagnia e anche una normalizzazione di certe tematiche. Sarebbe, insomma, una grande vittoria rappresentare appunto un esempio. Sì, no, io credo che abbia ragione anche Francesco, non per il progetto in sé, che va beh, io stimo tantissimo, però il fatto di dire che ci si pone come insegnanti di qualcosa, non lo so, non credo sia quello l'obiettivo, o almeno quando io partecipo direttamente a un progetto, non è quello che ricerco. Cioè, quello che ricerco è, certo, spero che qualcuno si sia trovato rappresentato soprattutto da Federico, dal personaggio di Federico, perché credo che tanti ragazzi siano in questa situazione, che ci sia una sensibilità molto incompresa, che impersonifica Federico. Però credo che la conquista anche più grande è il fatto di vedere un confronto, cioè di vedere un qualcosa di diverso da quello che siamo abituati a vedere, che questo ci stimoli a riflettere. Credo che questa sia già una conquista per chi ha fatto il progetto, cioè di presentare un'altra possibilità o un qualcosa di differente. Però guarda che tu sottovaluti il potere identificativo del tuo personaggio, tu dici che si identificheranno in Federico, ma... sta a vedere. Ma stai a vedere. Stai a vedere. Grazie, grazie mille e ancora complimenti, grazie. Grazie a voi.